Ciao e benvenuti al nostro oroscopo di oggi. Siamo felici di darvi il benvenuto per esplorare le stelle e scoprire cosa ci riserva il destino per la giornata. Abbiamo preparato previsioni astrologiche interessanti e consigli utili per affrontare al meglio la vostra giornata. Quindi rilassatevi, fate una pausa e immergetevi nel magico mondo dell'astrologia. Cosa ci aspetta per oggi, 3 settembre 2023, secondo le stelle? Lo scopriamo con l'oroscopo del giorno di branco. Ciao Ariete. Un momento molto appropriato per apportare modifiche alla tua attività che tengano conto delle innovazioni tecnologiche. Se vuoi competere non puoi restare indietro. Attraversi una fase in cui le opinioni degli altri ti influenzano troppo. Cerca di promuovere maggiormente le tue idee, in questo modo la tua autostima aumenterà. Sarai impegnato quasi tutto il giorno a combattere le avversità, soprattutto contro le persone che negli ultimi tempi ti stanno rendendo la vita impossibile. Ascolta, Ariete, le cose potrebbero sembrare un po' incerte in amore e carriera, ma la tua fortuna è forte. Non preoccuparti troppo. Le tue abilità di comunicazione sono al top e noterai una certa energia positiva che ti circonda. La salute potrebbe richiedere un po' di attenzione extra, niente di serio però. Le finanze? Decisamente una zona grigia, gestisci attentamente i tuoi risparmi. Continua a fare affidamento sulla tua intuizione e mantieni alto il tuo equilibrio interiore. Ciao Toro. La tua forza mentale è ad un livello molto alto, ma lo stesso non vale per la tua forza fisica. Anche se il tuo cervello ti chiede uno sforzo maggiore, devi riposare per non ammalarti. Un certo disagio ti coglie senza che tu possa indovinare l'origine del dolore. Anche se passerà presto, assicurati di discuterne con il medico alla tua prossima visita. Le prime decisioni al mattino saranno troppo goffe. Se puoi, prova a far passare il tempo prima di intraprendere un percorso che dovrai poi ripercorrere. Amico Toro, la tua compatibilità con gli altri potrebbe essere inaspettatamente fluida ultimamente. La tua energia sembra abbondante e riesci a gestire le sfide come se fossero niente. Tuttavia, tieni d'occhio il tuo equilibrio interiore, sentirti centrato ti aiuterà a navigare meglio attraverso le acque tumultuose della vita. L'amore è un punto di forza per te ora, quindi approfittane. Nonostante ciò, la carriera potrebbe richiedere attenzione extra, non lasciare che i piccoli intoppi ti intralcino. Ciao gemelli. Prendi le cose con calma ed evita discussioni e decisioni di natura trascendentale. Le stelle non ti fanno ben sperare negli scontri. Hai bisogno di una sicurezza finanziaria che non hai e che non sai come ottenere. Non preoccuparti, ciò che hai seminato presto si realizzerà. L'ombra di una malattia aleggia sul tuo ambiente familiare più vicino. In ogni caso, e nonostante lo spavento iniziale, alla fine le cose andranno meglio del previsto. E i gemelli, sembra che tu stia attraversando un periodo contrastante. Da una parte, la tua fortuna è alle stelle e ti potrebbe sorprendere con opportunità inaspettate nel campo della carriera. Tuttavia, non lasciare che questo offuschi le tue decisioni finanziarie, la cautela qui è d'obbligo. La tua energia ed emotività sono piuttosto basse, quindi prenditi del tempo per riequilibrare il tuo interiore. Ricorda, l'amore potrebbe essere complicato da gestire ora. Ciao cancro. Avete bisogno di liberarvi dalle imposizioni che vi immobilizzano, e se per questo dovete prendere decisioni importanti, non esitate a farlo dopo aver riflettuto. Buona giornata per il lavoro di gruppo, soprattutto se il frutto di quel lavoro ha un impatto diretto a beneficio di tutti. A casa troverai una sorpresa, un regalo. Corri il rischio di spendere più del necessario, controlla la tua carta in modo che non ti dia un grosso spavento in seguito. Amico cancro, la tua compatibilità sembra brillare con luce propria mentre la adattabilità potrebbe aver bisogno di un po' di lavoro. Non lasciarti scoraggiare da ciò perché il tuo senso dell'avventura è al suo apice. La fortuna non ti sta dando una mano in questo momento, quindi fai attenzione alle tue finanze. In amore, le cose sembrano tranquille ma non dimenticare mai quanto sei dotato nel campo della leadership e delle abilità sociali. Ciao leone. Aumenta il desiderio di approfondire la propria identità per conoscersi e definirsi meglio come persona. Tutto il tuo investimento in quella terra sarà molto prezioso. Evita di usare il ragionamento nelle discussioni che potrebbero tornarti utili al momento, ma che potrebbero essere difficili da sostenere in seguito. Sii coerente. Si consiglia di adottare precauzioni per evitare incidenti domestici, soprattutto dovuti a ustioni o cadute. Sul lavoro riceverete buone notizie per il futuro. Ehi leone, sai già che sei una forza della natura e questa volta non è diverso. La tua carriera sembra un po' in bilico, potrebbe essere il momento di riconsiderare alcune cose. Nonostante ciò, la tua energia e le tue abilità sociali sono al top, usa queste doti per rimetterti in gioco. D'altra parte, occhio alle finanze, non lasciare che siano un gratta capo costante. L'amore? Potrebbe esserci qualche sorpresa all'orizzonte. Infine, mantieni l'equilibrio interiore, sarà la chiave per affrontare tutto con saggezza. Ciao Vergine. Non chiuderti ai cambiamenti, proprio perché la tua vita ha bisogno di aggiustamenti che fino ad ora non hai voluto fare e che le circostanze ti servono su un piatto d'argento. Vi sentite forti e non vi manca il coraggio, ma se non aggiungete la prudenza a questo binomio potrete ritrovarvi coinvolti in problemi che già conoscevate. Attenzione e cautela. Non mettere a repentaglio una relazione soddisfacente e promettente per un piacere momentaneo e forse anche deludente. Pensa prima di agire. Ascolta, Vergine, non è un periodo brillante per quanto riguarda l'amore e la carriera. Di sicuro potresti fare di meglio. Però dai, guardiamo il lato positivo, sei in piena forma fisica e le tue finanze sono stabili. La tua energia sembra inesauribile e ti permette di affrontare ogni sfida con grinta ed entusiasmo. Mantiene alta la creatività ma non esagerare con l'avventurosità, stai attento a mantenere equilibrio interiore. Ciao bilancia. È tempo di ristabilire il contatto con le persone che ti hanno aiutato in passato e che ora potrebbero farlo di nuovo. Lo scambio sarà favorevole a tutti. Idealizzare il tuo partner è qualcosa di naturale per la fase della relazione in cui ti trovi. Sei molto più sensibile del solito e vedi tutte le cose con colori rosei. Sei felice, approfitta di questo periodo per crescere come persona. O bilancia, a volte ti sembra di essere in una montagna russa, eh? La tua salute ha avuto i suoi alti e bassi ultimamente. Ricorda che un po' di esercizio non fa mai male. In amore, le cose vanno decisamente meglio. Il tuo partner apprezza la tua creatività, quindi continua a sorprenderlo. Non preoccuparti se il tuo bilancio sembra troppo instabile, con saggezza riuscirai a rimetterti in sesto. Infine, ricorda che la fortuna è mutevole come il vento. Ciao scorpione. La tua capacità di soddisfare le esigenze lavorative è ad un livello molto alto, puoi porti grandi sfide perché sarai in grado di andare avanti. Sei assalito dal desiderio di dare una svolta alla tua vita, di cambiare alcuni pilastri fondamentali della tua esistenza. Sarà qualcosa di effimero, passerà presto. L'irritazione di una persona con cui lavorate renderà le cose un po' tese tra voi, ma sarà qualcosa di temporaneo che risolverete presto. Ehi scorpione, la tua energia è al top. Sei in gran forma e pronta o a conquistare il mondo. Sfrutta questa forza per migliorare le tue abilità sociali. Potrebbe essere un ottimo periodo anche per l'amore, se riesci ad abbassare un po' le difese. La fortuna sembra non volarti bene ultimamente ma non preoccuparti troppo, ricorda che la vita è una ruota che gira, oggi può andar male e domani benissimo. Evita decisioni impulsive riguardo alle finanze. Ciao sagittario. Il tuo corpo è saggio e ti dice in vari modi che stai esagerando troppo spesso. Cerca di distanziarli e anche di moderarli. Sembra una grande opportunità per incontrare persone importanti e questo ti mette un po' paura. Pensa che sarà solo il primo momento e che dopo andrà tutto liscio. Sarà facile raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato nel breve termine, ma questi successi non dovrebbero farti perdere di vista ciò che desideri per il futuro più lontano. Tu, sagittario, sei un po' come una montagna russa. La tua compatibilità è alta con quasi tutti, ma la tua adattabilità potrebbe fare di meglio. Non preoccuparti troppo della fortuna, non è il tuo punto forte e sì, l'amore sarà un campo di battaglia per te. Ma ei! Tutti abbiamo i nostri giorni no. In carriera stai brillando, continua così. Fai attenzione alla salute e alle finanze, possono essere trappole nascoste lungo il cammino, mentre le tue abilità comunicative ti porteranno lontano. Il tuo equilibrio interiore ha bisogno di lavoro e anche se la tua avventurosità sembra promettente, modera gli istinti ogni tanto. Ciao capricorno! Non aver paura di chiedere aiuto a un professionista se i tuoi problemi stanno diventando troppo grandi per essere risolti da solo. Goditi ciò che hai e dedicagli più tempo, è il modo migliore per assicurarti di non perderlo. Fuggi dalla stravaganza, per il momento funziona ma poi stanca. Hai una meravigliosa opportunità di lasciare un segno profondo e ora puoi compiere passi chiari che influiscono positivamente sugli altri. Non aver paura. Ehi capricorno, hai un'incredibile adattabilità e una leadership naturale che ti fanno distinguere. La tua avventurosità potrebbe essere messa alla prova, ma la tua saggezza solida come una roccia ti porterà attraverso. Attenzione alle finanze però, sembra ci sia qualche intoppo sul tuo cammino. Non dimenticare di bilanciare il tutto con un po' di cura personale e attenzioni alla salute. Ciao Acquario. Oggi è un giorno molto probabile che le divergenze con una persona della tua famiglia si trasformino in confronti aperti. Avrai difficoltà, ma devi difenderti. Incontrerai una persona piena di vanità che cercherà di ottenere il tuo affetto o anche altro. Non ti sarà difficile soccombere al suo fascino, ma potresti pentirtene. Buona giornata per apparire in pubblico o per tenere un incontro con molte persone. Avrai la capacità di percepire e dire ciò che le persone vogliono sentire in ogni momento. Ehi Acquario, è tempo di tenere d'occhio quelle finanze. Potresti avere qualche piccolo problema di salute, ma niente che non possa essere risolto con un po' più di attenzione a te stesso. Sei in una fase piuttosto creativa e intuitiva, usala a tuo vantaggio nel lavoro. Non farti spaventare dalle sfide in amore, la tua adattabilità ti aiuterà a superarle. Mantieni l'equilibrio tra il tuo lato spirituale e i tuoi impegni quotidiani. Ciao Pesci. Le critiche degli altri ti mettono in una situazione personale difficile che può affondarti o, al contrario, spingerti ancora di più. Dipende da come lo interiorizzi. È opportuno chiedere consiglio prima di prendere decisioni importanti, soprattutto perché ci sono aspetti che restano nascosti ai vostri occhi e sono molto importanti. State attraversando un periodo della vostra vita in cui siete molto sensibili agli stimoli di carattere sentimentale, qualsiasi cosa, per quanto piccola, può influenzarvi. È i pesci, aspettati un periodo di alti e bassi. La tua compatibilità con gli altri potrebbe essere messa alla prova, ma niente paura, la tua adattabilità ti aiuterà a superare qualsiasi ostacolo. Nonostante alcune difficoltà in amore e carriera, la tua salute sembra essere al top. Attenzione alle finanze però, meglio non fare investimenti rischiosi ora. Ricorda che il tuo lato spirituale è forte quindi usalo a tuo vantaggio. Grazie per averci accompagnato in questa avventura astrologica. Speriamo che le previsioni di oggi vi siano state utili e che abbiate trascorso un momento piacevole con noi. Ricordate che le stelle possono offrire preziose indicazioni, ma il vostro destino è nelle vostre mani. Che la vostra giornata sia piena di sorprese positive e buona fortuna.